Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, in Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. La puntata di oggi di Sportello Reclami va in via dei Palazzotti, una strada che io non conosco ma in molti non conoscono, vediamo perché. Buonasera, ben ritrovati su Sportello Reclami, splendida giornata di Tardo Autunno con Giove Pluvio che ha voluto essere protagonista di questa puntata. Ci troviamo in zona, diciamo così, Sette Ponti, in via dei Palazzotti, è una strada che ha un incrocio su via Sette Ponti uscendo da Rezio immediatamente dopo la rotonda attraverso la quale si va verso Quarata, verso Patrignone oppure si ritorna verso San Leo. Siamo qui, siamo stati contattati da degli abitanti della zona perché è vero che siamo, sembrerebbe in campagna, ma in realtà siamo a pochissimi minuti dal centro di Arezzo. Siamo ad Arezzo, su una strada comunale e purtroppo, al di là del fatto che l'incrocio attraverso il quale si entra in questa strada, francamente è molto pericoloso, poco illuminato, lo vedrete senz'altro nelle immagini di Giuliano Sodio. Beh, però le condizioni di questa strada urbana sono tutto forché urbane. Questa qui, sono partiti i lavori all'incirca nel 2009 e poi si sono fermati, nonostante facciamo parte anche del triangolo delle cave, si è fermato un po' il tutto. Nel 2009 hanno asfaltato la via, ci hanno promesso di continuare i lavori, ma fino a oggi niente. Abbiamo fatto un raccolto firme perché si sono fermati i lavori e loro ci hanno detto che è una strada vicinale. Noi facciamo parte del triangolo delle cave. Nel 2009 e 2010 sono stati stanziati 467 mila euro per il triangolo delle cave. Il problema è stato che noi come zona siamo stati esclusi, siamo stati, non siamo stati inseriti proprio in questo contesto e noi in più volte abbiamo detto che ci dovevano inserire e soprattutto ci doveva toccare la nostra parte di questi soldi per poter fare il lavoro. Invece continuano a dirci solo fandonie, parole al vento e basta. Fino ad oggi ci hanno portato qualche camion di chiaia e basta, non si vedono i risultati. La via come si vede bene è piena di buche, ci sono disabili, c'è una casa famiglia. Fino ad un anno e mezzo fa c'era anche una ragazza in carrozzina con una bambina, purtroppo questa ragazza non c'è più adesso. Anche loro trovano difficoltà, come tutta la zona. Poi come si vede bene è frequentata questa via, essendoci anche la casa famiglia. Insomma ancora una volta è purtroppo troppo spesso capitato, è purtroppo troppo spesso capitato in questo ciclo di trasmissioni. Ci troviamo di fronte a persone che vivono quotidianamente questo tipo di realtà, che fanno parte attiva della comunità, parte attiva della comunità nel senso che vivono i problemi di tutti i giorni, pagano giustamente come è da fare le tasse e però quando si tratta di richiedere qualche cosa perché venga migliorato ciò che in realtà dovrebbe essere migliorato, forse senza nemmeno chiederlo, purtroppo le risposte non arrivano. Sì, volevo dire, non solo pagano quotidianamente le tasse, ma noi che è dieci anni che abitiamo qua, di orneri di urbanizzazione ne abbiamo pagati tanti. Quando siamo arrivati io ho chiesto ma perché devo pagare tutti questi soldi? Non c'è la strada, non c'è l'acqua, non c'è la luce, no l'acqua quando è arrivata comunque e è solo da due anni ho dovuto ripagare per l'allacciamento. La luce ho dovuto cercare io il proprietario del campo vicino che è un signore che sta in Sicilia, ho fatto il pozzo e tutto quanto per lo scarico, poi è cambiata la legge, ho ripagato per l'affitto depurazione perché il comune giustamente voleva l'affitto depurazione ma sono io a mie spese che l'ho ripagata perché non ci sono fognature. E la strada, hanno portato la strada, hanno portato il gas, abbiamo pagato per l'acqua e abbiamo pagato per l'allacciamento, dissero che si erano fermati perché dovevano tagliare lì per le tubature e che poi avrebbero proseguito. Queste sono le condizioni. C'è un figliolo col motorino, è pericoloso, sembra polemico, mia madre ha 82 anni, non può venire a trovarmi perché si rompe le costole avendo l'ostoporosi, è veramente troppo. Insomma, ancora una volta, io credo che sia giusto che a tutti venga dato ciò che dovrebbe essere un loro diritto. Noi vogliamo sperare attraverso questa testimonianza una volta di più che chi deve intervenire, chi ha competenza per intervenire, intervenga e soprattutto quando i cittadini chiedono qualche cosa che fa parte assolutamente del loro diritto, abbia quantomeno la voglia, il coraggio di rispondere. Bene, per questa sera è tutto, questo è il servizio. Arrivederci alla prossima spuntata di Sportello Reclami. Oggi abbiamo parlato di una strada praticamente abbandonata a se stessa. Facciamo il punto della situazione tra poco, dopo i messaggi pubblicitari. Oggi abbiamo parlato di Via dei Palazzotti. So benissimo che molti di voi non sapevano l'esistenza, dell'esistenza di questa strada sembra essere davvero una strada dimenticata per molti versi. Avrete sentito anche le lamentele degli abitanti della zona. Via dei Palazzotti è una strada stretta, sterrata per la sua gran parte, piena di buche, non mantenuta, con un innesto sulla Sette Ponti, spericolosissimo sicuramente nelle ore di buio. Sembra proprio di non godere alcuna attenzione. Sollecitiamo gli organi competenti invece a prendere visione, a segnarsi nella loro agenda anche questa Via dei Palazzotti. Le nostre telecamere hanno riportato una situazione veramente un po' imbarazzante che sono convinto possa essere risolta in breve. Grazie della vostra attenzione, postiamo il nostro servizio come di consueto su internet e grazie delle vostre segnalazioni che ci danno modo di rendere vivo il nostro programma. Buona serata ancora su Teletruria. Arrivederci. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.